Enzo De Caro è il protagonista della commedia di Peppino De Filippo Non è vero ma ci credo, con Francesca Ciardiello, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo, Ingrid Sansone, regia di Leo Muscato in scena domani alle ore 21 e domenica alle 17 al Teatro Traiano. Per la stagione nata dalla collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e a TCL circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC, Ministero della Cultura del Regione Lazio. Ereditando la direzione artistica della compagnia di Luigi De Filippo, Leo Muscato inaugura questo nuovo corso, partendo proprio dal primo spettacolo che ha fatto con lui Non è vero ma ci credo, rispettando i canoni della tradizione del teatro napoletano ma dando a questa storia un sapore più contemporaneo. Il protagonista dello spettacolo assomiglia tanto ad alcuni personaggi di Molière che Luigi De Filippo amava molto. L'avaro, avarissimo imprenditore Gervasio Savastano vive nel perenne incubo di essere vittima della iettatura. La sua vita è diventata un vero e proprio inferno perché vede segni funesti ovunque, nella gente che incontra, nella corrispondenza che trova sulla scrivania, nei sogni che fa di notte. Forse teme che qualcuno o qualcosa possa minacciare l'impero economico che è riuscito a mettere in piedi con tanti sacrifici. Qualunque cosa, anche la più banale, lo manda in crisi. Chi gli sta accanto non sa più come approcciarlo. La moglie e la figlia sono sull'orlo di una crisi di nervi. Non possono uscire di casa perché lui glielo impedisce. Anche i suoi dipendenti sono stanchi di tollerare queste assurde manie ossessive. A un certo punto le sue fisse oltrepassano la soglia del ridicolo. Licenzia il suo dipendente Malvurio solo perché è convinto che porti sfortuna. L'uomo minaccia di denunciarlo, portarlo in tribunale e intentare una causa per calugna. Sembra il preambolo di una tragedia ma siamo in una commedia che fa morire da ridere. E infatti sulla soglia del suo ufficio appare San Maria, un giovane in cerca di lavoro. Sembra intelligente, gioviale e preparato ma il commendatore Savastano è attratto da un'altra qualità di quel giovane, la sua gobba. Da qui partano una serie di eventi paradossali e desilaranti che vedranno al centro della vicenda la credulità del povero commendatore Savastano.